Amici di Vercelli Web, siamo con Andrea Perroni alla vigilia dell'importante scontro di sabato sera contro la capolista Sandrigo. Andrea, come la squadra affronterete questa partita? Sicuramente andremo là per ottenere la vittoria, per portare a casa i tre punti. La squadra è bella carica e non vede l'ora di affrontare questo match. L'eventuale sconfitta della capolista sabato sera potrebbe riportare delle ripercussioni in vista della Final Four di Coppa Italia, visto che potrebbe essere una potenziale diretta concorrente? Sicuramente, magari loro potrebbero un po' cadere a livello psicologico. Per quanto riguarda noi invece dobbiamo iniziare a pensare prima alla partita di Sandrigo, poi alla partita di Serenio, poi pensare alla semifinale che giocheremo contro Bassano e siccome sono sicuro che arriveremo in finale, l'eventuale finale con Sandrigo, con Montebello, la partita che sarà attraverso la Salope Italia. Grazie.